Grazie. Grazie. E segna anche simbolicamente una lunga associazione fra l'Italia e l'Alto Commissariato, una lunga e positiva associazione di collaborazione e di lavoro assieme. Grazie. Grazie a questa importante attenzione. Grazie a tutti. Per esempio, la settimana scorsa due dei nostri colleghi hanno perso la vita, una di loro con il suo bambino di quattro anni sotto le macerie risultanti dai bombardamenti in Libano. E quindi grazie dell'appoggio che ci date, che l'Italia ci dà. E in questo momento molto importante, come tutti, come certo anche voi, siamo, avevo pensato di dire preoccupati dalla situazione in Medio Oriente, direi angosciati dalla situazione in Medio Oriente. Il timore di un'espansione del conflitto irrisolto fra israeliani e palestinesi, timori che abbiamo espresso ormai da molto tempo, ne parlavamo con il Presidente poco fa, sono ormai non più timori, sono una realtà. Il conflitto ormai si è esteso a Libano. L'attacco di un'espansione, il freddo diritto o40, è un'espansione di un'espansione di un'espansione di un'espansione. In una regione che, come sapete benissimo, e noi lo sappiamo bene, è da ogni punto di vista estremamente fragile, con tutti questi paesi ancora in crisi o appena emersi da crisi gravi, come l'Iraq per esempio. Qualche parola sul Libano, che è naturalmente di tragica attualità e dove siamo fortemente coinvolti. Qualche statistica, come sapete, l'ultima statistica del Ministero della Salute libanese riporta 1800 morti negli ultimi giorni. Il Primo Ministro ha parlato due giorni fa di un milione di persone sfollate all'interno del Paese. La statistica unica che abbiamo, perché è molto molto difficile contare le persone sfollate, ma abbiamo una certezza di almeno 350 mila, ma purtroppo la realtà è più vicina alla stima del Primo Ministro Mikati. Ci sono anche, ricordiamolo, è doveroso ricordarlo, 60 mila persone sfollate nel nord di Israele a causa degli attacchi di Hezbollah. Quindi una situazione umanitaria estremamente complessa. Noi, come alto commissariato, insieme al resto del sistema ONU e del sistema di cooperazione internazionale, siamo molto presenti in Libano da molti anni. A causa della presenza, ricordiamoci, di più di un milione di rifugiati siriani, la gran parte dei quali non sono ancora rientrati tra loro. Le Nazioni Unite hanno diffuso due giorni fa, se non sbaglio, un appello di raccolta fondi per rispondere all'emergenza in Libano di circa 400 milioni di euro, una parte dei quali, circa 70 milioni di euro, sono relativi al lavoro che fa l'alto commissariato. Lo facciamo in coordinamento con le altre agenzie, il coordinamento è buono, l'operazione funziona, molto pericolosa perché i bombardamenti sono incessanti e anche abbastanza imprevedibili. Il paradosso o la tragica ironia di questa situazione è che, come certo sapete, molte persone dal Libano hanno deciso di rifugiarsi in Siria per sfuggire a questi bombardamenti. Le ultime statistiche ho, che sono credo già superate dai fatti, fino a ieri parlavamo di circa 100 mila persone che hanno traversato la frontiera siriana, un 60% siriani, quindi rifugiati che tornano in condizioni non proprio ideali, e 40 mila libanesi che quindi tecnicamente sono rifugiati, perché dal nostro punto di vista queste sono persone che fuggono da un conflitto. Devo dire che il governo siriano ha aperto le frontiere, ci ha consentito di essere presenti nei punti di passaggio, questo è importante perché non è sempre stato il caso nel passato, questo è anche importante in vista, faccio un piccolo inciso, forse non è, sembra non opportuno dirlo, ma è importante anche in un futuro, in una futura prospettiva di più ritorni di rifugiati in Siria, se dovessero, parlo molto ipoteticamente, migliorare le condizioni in Siria, questo potrebbe essere un segnale importante. E tra parentesi, ne parlava la Presidente, vi congratulo l'Italia per avere preso la decisione che non tutti i paesi occidentali hanno preso, di riaprire l'ambasciata in Siria, a me sembra un segno molto positivo, molto importante, sono d'altronde in contatto molto stretto con l'ambasciatore Ravagnan, e credo che sia importante incoraggiare anche altri paesi a seguire questo esempio. Si parla con tutti, con chi ci piace e con chi non ci piace, quindi questo credo che sia importante farlo. Vorrei anche aggiungervi, questo non è ancora ufficiale, ma lo sarà, credo, a breve, che se le condizioni lo permettono, soprattutto se i voli funzionano, sabato conto andare in Libano e in Siria, io stesso per vedere la situazione, e discuterla con i governi e portare anche la mia solidarietà alle persone che pagano l'impatto di questa terribile crisi. Segnalo anche, lo sapete senz'altro, che siamo impegnati molto in Libano, voi sapete che l'UNHCR non è impegnato a Gaza per la divisione del lavoro all'interno del sistema ONU con l'UNRWA, quindi non siamo impegnati su quel fronte, ma siamo impegnati su tutti gli altri fronti, compreso il Sudan, che è molto vicino al Medio Oriente, altra vastissima crisi, anzi più vasta crisi, purtroppo molto trascurata, con poca visibilità anche mediatica, poca conoscenza, poca consapevolezza di questa crisi nell'opinione pubblica, purtroppo questo si traduce anche con finanziamenti che sono un po' migliorati, ma restano faticosi. Ero a New York, l'Assemblea Generale, la settimana scorsa e ho partecipato a alcune riunioni sul Sudan. È preoccupante vedere come non c'è progresso sul dialogo con i due gruppi militari, non so come altro definirvi, che stanno distruggendo letteralmente il proprio paese. Sono stato due volte in Sudan quest'anno, sono stato in tutti i paesi vicini, voi sapete anche dal nostro punto di vista ci sono più di 10 milioni di persone in fuga, molti all'interno del paese, accesso difficilissimo a causa del conflitto, ma più di 2 milioni nei paesi vicini, tutti o molti dei quali sono paesi ancora una volta di una fragilità straordinaria. Pensiamo al Chad, l'ultimo paese del Sahel che ancora non ha visto un colpo di stato recente, dico solo questo, e naturalmente il Sud Sudan che riceve molti di questi rifugiati, l'Etiopia, l'Egitto e così via. E osserviamo in Sudan, ho detto prima, segno dei tempi, un po' il fenomeno che abbiamo visto in Libano, cioè Sudan ospitava prima del conflitto un milione di rifugiati dei paesi vicini, molti oggi tornano in quei paesi perché fra i due rischi scelgono il relativamente minore, quindi è una situazione veramente, soprattutto in Sud Sudan, una situazione veramente difficile e fuggono insieme appunto a centinaia di migliaia di sudanesi. Segnalo fra l'altro, perché questo vi o ci concerne da vicino, che almeno 100.000 sudanesi sono arrivati in Libia. La Libia per la prima volta ci ha consentito di essere alla frontiera sud per aiutare quelli che arrivano, buon segno che ci abbiano consentito di farlo, i rapporti con la Libia sono sempre stati complessi, meno buon segno che siano arrivate queste persone. Come sapete già se ne trovano molte fra quelli che traversano il Mediterraneo, e ero a Londra un paio di settimane fa, anche tra quelli che traversano la Manica. Questi non sono sudanesi che sono in Libia da molti anni e aspettano di poter partire. Molti di questi sono sudanesi che fuggono direttamente o dal Sudan o dai paesi vicini a causa di questo conflitto. E vanno ad aggravare naturalmente il fenomeno di cui voi senz'altro discutete molto spesso, degli arrivi, degli sbarchi, fenomeno come sappiamo e abbiamo detto molte volte, di flussi estremamente complessi. Per questo so che oggi, non so se tutti voi, ma alcuni di voi incontreranno la mia collega Emi Po, direttrice generale dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Sono contento che lo facciate perché soprattutto su questi fenomeni di movimenti di popolazione molto mescolate, sempre di più lavoriamo in strettissima collaborazione con l'OIM. E sentirete da lei quello che vi dico anch'io, che noi capiamo molto bene che l'Unione Europea, i paesi dell'Unione, compresa l'Italia, hanno una preoccupazione immediata, che è anche un dovere immediato, che è quello di proteggere le proprie frontiere e controllare questi flussi. È chiaro però che quello che noi vi diciamo è allargate lo sguardo. Come l'ho descritto l'altro giorno, il Presidente Mattarella ha ripreso questa espressione, è importante, sembra ovvio ma non lo è, è importante in questi contesti avere quello che io creiamo, uno sguardo panoramico sui flussi, che parte dalle cause d'origine, perché tutte queste persone sono in movimento, conflitti non risolti, cambiamenti, l'emergenza climatica, fattori sociali, economici e demografici, quindi è un complesso insieme di cause e naturalmente è importante in questa visione panoramica che noi sempre di più promuoviamo anche prestare più attenzione ai grandi paesi d'asilo che si trovano sulle rotte, ai paesi di transito vero e proprio. È importante incrementare, e felicito l'Italia, congratulo l'Italia per essere stata pioniera in questo campo, le cosiddette vie legali, vie sicure, i corridoi umanitari, come vengono chiamati qui, sia quelli tradizionali sia quelli legati anche alla migrazione economica. Tutto questo è molto importante, è importante, e so che è una questione molto dibattuta, continuare a rinforzare le operazioni di soccorso, che siano nei deserti, questo riguarda meno l'Europa, ma che siano sui mari, e l'Europa ha una preoccupazione molto diretta. Siamo anche molto consapevoli, e lo sono stato, vi assicuro, durante tutti questi anni, che è molto importante essere efficaci nei rimpatri delle persone che non sono riconosciute come rifugiati. Sono persone che per definizione non ricadono più sotto il nostro mandato, ma sull'operazione rimpatri, che è importante anche per proteggere il diritto d'asilo, noi siamo naturalmente pronti a collaborare anche in rispetto ai paesi di origine. Seguiamo molto attentamente il dibattito europeo su questi temi, voi sapete che noi siamo molto contrari a ogni forma di esternalizzazione totale del diritto d'asilo, cioè negare l'accesso al territorio per chiedere asilo per noi è un po' una linea rossa, perché capite che questo è il cuore del nostro mandato, ma siamo attenti e seguiamo anche il dibattito sul coinvolgimento di paesi terzi, ci sono possibilità di stabilire sistemi in questo senso coinvolgendo paesi terzi anche fuori dall'Unione, ammesso però che le norme internazionali siano rispettate. Ed è per questo che abbiamo accettato qualche settimana fa la proposta del governo di svolgere un ruolo di monitoraggio, se volete, su quando sarà messo in atto l'accordo con l'Albania. Questo segnalo, noi non siamo coinvolti nell'accordo, non siamo stati coinvolti nel negoziato, abbiamo offerto dei suggerimenti, alcuni dei quali sono stati accolti, ma siamo rimasti all'esterno, però io resto convinto che questo fa parte, è nel cuore del mandato dell'Alto Commissariato che secondo i suoi statuti ha un ruolo di supervisione della messa in atto della Convenzione sui Rifugiati. Quindi lo svolgeremo almeno per tre mesi sperimentalmente questo ruolo, stiamo definendo le modalità con il governo di come potremo esercitare e sul mare e nei centri d'accoglienza in Albania, questo ruolo, ve ne parleremo di più quando sarà cominciato. Tutto questo, anche per dire che seguiamo con attenzione il discorso che il governo sta portando avanti proprio in questo spirito, chiamiamolo panoramico, attraverso il cosiddetto Piano Mattei e altre iniziative che ci sembrano importanti, perché è importante andare a monte del problema. Naturalmente incoraggiamo il governo italiano e altri governi che hanno iniziative simili a coordinare al massimo questi sforzi per moltiplicare positivamente le risorse esistenti. Del resto tutto questo è previsto nel patto europeo su migrazioni e asilo e sono contento che il governo l'abbia negli ultimi passi del negoziato appoggiato. Bisogna adesso metterlo in atto questo patto. Facciamo parte del gruppo di organizzazioni che sostengono la Commissione e gli stati membri sulla messa in atto del patto. Insomma, il punto fondamentale è che le soluzioni a questi flussi molto complessi non possono essere singolarmente, non sono fatte segmento per segmento. O meglio, ogni segmento richiede un'attenzione particolare e l'insieme richiede un coordinamento particolare. Deve essere un pacchetto di misure, non un segmento soltanto di misure. Sono stato invitato, e sono molto grato al Ministro Piantedosi, sono stato invitato a parlare ai ministri dell'interno del G7 che, come sapete, si riuniscono stasera e domani a Vellino e domani avrò occasione con Emi Pop di scambiare e sarà questo il tema fondamentale che porterò a quel tavolo. Un piccolo inciso, se mi permettete, che ho anche condiviso col Presidente l'altro ieri. Siamo preoccupati per la situazione in Tunisia. Ci sono elezioni domani, credo. Siamo preoccupati perché la Tunisia è un paese chiave, parlando di, soprattutto per l'Italia, parlando di sguardo panoramico. Recentemente il governo tunisino, stiamo negoziando, ha sospeso il nostro ruolo di registrare i nuovi arrivi, soprattutto quelli che richiedono asilo. Sono forse una minoranza rispetto al flusso, ma il numero sta crescendo perché molte persone dal Sudan, per esempio, passano per quella rotta. Siamo preoccupati, l'abbiamo espresso molte volte al governo, non rivelo nessun segreto dai respingimenti che vengono effettuati alle frontiere tunisine, verso la Libia, verso l'Algeria. e speriamo che l'avvento di un nuovo governo ci consenta di riprendere quello spazio che ci è stato tolto. Chiediamo all'Italia, che ha un dialogo importante e costruttivo con la Tunisia, di aiutarci in questo senso. Ne approfitto anche, ho ancora alcuni brevi punti. Uno, per ringraziare l'Italia per il ruolo che svolge, anche dal punto di vista umanitario, che è il mio punto di vista in Ucraina. Uno, l'accoglienza ai rifugiati ucraini, che è stata molto importante e generosa in Italia. Su un piano più vasto è chiaro che il nostro punto di vista è che bisogna continuare ad appoggiare, certo, gli sforzi verso la pace, ma una pace che sia giusta, naturalmente, per tutti, perché se no non sarà sostenibile. Lo sapete benissimo e so che alcuni di voi si trovano in Ucraina in questo momento, ma io ci sono stato due volte quest'anno, l'ultima in luglio, e la mia visita di luglio è stata preoccupante. Insomma, ho preso atto di preoccupazioni molto gravi da parte, sul nostro fronte, diciamo, umanitario, perché la distruzione di almeno 70% dell'infrastruttura energetica del Paese attraverso bombardamenti russi mirati alle centrali elettriche e altre strutture importanti renderanno l'inverno durissimo. Mi si chiede spesso se questo provocherà un'altra fuoriuscita di rifugiati, forse, certo, non come nel 2022, questo mi sembra improbabile, però, certo, dovremo gestire una situazione interna, perlomeno umanitaria, e avremo bisogno del vostro aiuto, perché l'attenzione in Ucraina, naturalmente, comprensibilmente, è sempre sugli aspetti politici e militari, non bisogna dimenticare che c'è un aspetto umano e vi posso assicurare che le persone che soffrono di più l'impatto della guerra oggi sono i più deboli e vulnerabili, sono gli anziani, sono i pensionati, sono le persone che non sono andati via nel passato e quindi è una situazione triste. Non parlo di altre crisi, ma voi sapete benissimo che noi siamo impegnati anche su moltissimi altri teatri meno visibili dell'Ucraina o del Medio Oriente, l'Afghanistan, la Birmania, il Congo, il Corno d'Africa, il Sahel, anche alcuni dei quali sono estremamente sensibili e importanti per voi. Grazie a questo proposito del sostegno finanziario che l'Italia continua a fornirci. Vi posso assicurare che continueremo a bussare a quella porta, continueremo a chiedere a che l'Italia ci aiuti anche ad accedere a fondi europei, a fondi della Commissione. Voi sapete che noi siamo interamente finanziati su base volontaria, capiamo molto bene le pressioni di bilancio con cui dovete avere a che fare voi, ma penso che sostenere un'organizzazione come l'Alto Commissariato, come altre organizzazioni dell'ONU, non sia soltanto un gesto umanitario, ma sia anche nell'interesse nazionale. I finanziamenti italiani, come in tutti i paesi, fluttono a seconda della situazione, a seconda delle crisi. Abbiamo avuto un picco importante, se non sbaglio, due anni fa. C'è stato un breve calo, stiamo recuperando. Ne parlerò oggi con il Ministro degli Esteri e il dialogo continua, spero, col vostro appoggio. Per concludere, grazie, grazie ancora. Il momento è molto difficile, è molto drammatico, non nascondiamocelo. Il vostro sostegno è importante. È importante, credo, oggi in questo mondo in cui, io lo dico sempre, l'ho detto in non so quante interviste, siamo diventati incapaci di fare la pace. Siamo diventati incapaci di risolvere i conflitti. Quindi, purtroppo, in attesa di, speriamolo, ritrovare quella capacità, mi sembra importante che almeno le organizzazioni umanitarie, soprattutto le più importanti, restino forti ed efficaci sul terreno. E spero anche, se posso permettermi di dirlo, che nel dibattito attorno a questi temi, soprattutto ai temi che riguardano la mia organizzazione, temi dei flussi migratori, dei rifugiati, dibattito spesso rumoroso, politicizzato, spero che continuate anche a difendere i valori di solidarietà, il diritto internazionale, la cooperazione fra gli stati, che sono il fondamento indispensabile del nostro lavoro. Grazie Presidente, grazie Stefano. Grazie Filippo, grazie Commissario. Allora, intanto, non l'ho fatto prima, saluto i componenti della delegazione, il dottor Filippo Leclerc, direttore dell'Ufficio Europeo, la dottoressa Chiara Cardoletti, con cui spesso ci incontriamo, rappresentante UNHCR in Italia, la Santa Sede San Marino, la dottoressa Anna Jorgensen, vice rappresentante per l'Italia, Santa Sede San Marino, il dottor Riccardo Credici, responsabile dell'UNHCR per i rapporti istituzionali con l'Italia, Santa Sede San Marino, la dottoressa Maria Giovanna Pietro Paolo, funzionare per le relazioni esterne per la rappresentanza in Italia, Santa Sede San Marino, e il consigliere Pasquale Mazzeo, cerimoniale diplomatico. Lei ha molto ragione, commissario, quando dice che l'immigrazione o comunque lo spostamento di ingenti numeri di esseri umani è un fenomeno molto complesso, io poi penso che non sia un fenomeno transitorio, ma un fenomeno epocale. Vanno molte distinte le diverse situazioni. Per quanto riguarda i rifugiati, noi, Italia, ma Europa deve diventare una grande patria d'asilo, abbiamo il diritto, il dovere di soccorrere queste persone che scappano dalla guerra. Per quanto riguarda i rifugiati economici, evidentemente noi possiamo accogliere quelli che il nostro sistema produttivo necessita e quindi verso i quali possiamo avere una politica di integrazione nel nostro paese, fissando delle regole certe, naturalmente. Però è un fenomeno, naturalmente, che abbiamo visto arrivare con grande ritardo, noi europei, su cui siamo in grande ritardo. la grande questione sociale della nostra epoca rimane il grande divario che divide il nord e il sud del mondo in termini di pace, progresso civile e sociale e dilupo economico. Allora, io darei inizio al dibattito. Se qualcuno vuole intervenire... Ah, scusate, i due vicepresidenti, onorevole Formentini, vuole intervenire? Lascio al dibattito. Va bene. Scusandomi ancora per esitare. No, tranquillo. Il senatore Senti è arrivato in ritardo. Non era comprovenzato. Quando qualcuno vuole... Prego, il senatore Del Rio ha la parola. Grazie. Allora, intanto mi consenta in apertura di esprimere a lei, a tutta l'organizzazione che lei presiede, a tutti i suoi collaboratori, la nostra profonda stima. Io sono il Partito Democratico, la nostra profonda stima per il vostro lavoro, il nostro supporto totale alla vostra azione. Siete stati e siete una voce assolutamente autorevole e seria. Siamo particolarmente orgogliosi che sia lei un italiano a guidare questa organizzazione, ovviamente, ma questo ce lo consenta una piccola parte di orgoglio nazionale, ma credo che la vostra autorevolezza, la vostra imparzialità, la vostra umanità e l'umanità nel vostro lavoro siano davvero di grande importanza. E lo dico da un punto di vista politico, perché qui non stiamo qui a, stamattina credo, per giudicare le cose da un punto di vista semplicemente della tensione morale o della tensione caritativa, ma stiamo cercando di capire, e questa è la mia sostanziale osservazione, se e come gli Stati stiano valorizzando l'autorevolezza dell'UNHCR, cioè se questo ruolo così importante che voi ricoprite come segno del fatto che il diritto internazionale, il diritto umanitario, prevale sugli interessi nazionali e sugli interessi particolari, che non tutti i fini, che i fini non giustificano tutti i mezzi consentiti, è lecito controllare le frontiere, ma non è lecito controllarle gettando persone in mezzo al deserto. È giusto che gli Stati difendano i loro confini, nel senso che abbiano migrazioni regolari, concertate, ma non è giusto che questo avvenga a scapito del diritto umanitario internazionale. Quindi la mia domanda è molto semplice anche alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale noi abbiamo dato vita, diciamo l'umanità, noi nel senso largo, abbiamo dato vita a un salto di civiltà dicendo che forse le organizzazioni internazionali erano il modo per proteggerci dall'insicurezza, dalla violenza degli Stati o dalla violenza di gruppi, eccetera, eccetera, ma mi sembra che questa autorevolezza che così, in maniera così forte, fu messa in campo di fronte agli orrori della Seconda Guerra Mondiale oggi sia molto messa in discussione da parte degli Stati. E quindi la mia domanda è, mentre sollecito e sono sicuro che la Presidente Craxi in primis, anche per la sua sensibilità personale, mentre sollecito un intervento più autorevole da parte del, più forte, ecco non più autorevole, più forte da parte del Governo italiano perché possiate riprendere, riprendere, diciamo, i contatti con il Governo tunisino e possiate essere stabilmente col Governo tunisino in una relazione, diciamo, di monitoraggio, di supervisione, così come saluto con assoluta con favore, il fatto che siate potuti ritornare in Libia, non so in quale parte, ma diciamo, perché questo fu anche quando io ero Ministro e responsabile dei soccorsi in mare, questo fu anche una delle questioni che noi mettemmo per primi in evidenza, cioè che bisognava avere la presenza dell'UNHCR nei campi di raccolta, in territorio libico e così via, quindi ecco però questa domanda è la luce di quello che sta succedendo in Libano, è la luce di quello che sta succedendo nella violazione del diritto internazionale umanitario con la reazione varia con i vari attentati terroristici di Hamas, con i missili in Iran, il tema dell'autorevolezza, adesso ci limitiamo all'UNHCR, mettiamola così, visto che lei è qua, però questo tema di come gli stati investano su questa vostra autorevolezza è così preziosa per il futuro del nostro paese, dell'Europa e della nostra umanità, diciamo, questa è veramente un'osservazione che le chiederei di farci, insomma, se nota che questo affidavit che gli stati avevano fatto si stia esaurendo, ecco, perché questa è una preoccupazione molto alta e uscì quello che sta accadendo. Grazie. Grazie, senatore Del Rio, senatore Borghi. Grazie, Presidente. Mi unisco alle considerazioni di ringraziamento e di apprezzamento fatte in precedenza dal collega Del Rio, dall'alto commissario Grandi, sono Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva ed esprimo quindi un ringraziamento per il suo lavoro, per il lavoro della sua struttura, per l'importante funzione che viene assolta in un quadro di oggettiva complicazione e difficoltà. La mia riflessione è molto semplice, Dottor Grandi, la vostra struttura immagino, ma vorrei che di questo venisse data contezza in questa sede, immagino abbia piena consapevolezza del fatto che i migranti vengono utilizzati da diversi stati come arma di pressione nel quadro di un'attività di guerra ibrida. Cioè, se noi non andiamo alla radice del problema e ci fermiamo sulla superficie del problema, il problema non lo risolveremo mai. Lei ha citato un tema molto delicato, ne abbiamo parlato anche ieri in Commissione Esteri, mi fa piacere che vada sabato in quel teatro, è anche l'occasione per fare un appello affinché la comunità internazionale apra gli occhi su quello che sta accadendo in Siria, perché la porosità di quel confine rischia di essere la riproposizione delle problematiche. non solo perché, come è noto, nei confronti del Presidente Assad in passato abbiamo stabilito come comunità internazionale delle linee rosse che una volta che si sono varcate non abbiamo fatto nulla e il risultato di tutto questo sono stati 4 milioni di siriani in Turchia, i 2 milioni di siriani in Libano. Se si riapre oggi come conseguenza degli eventi bellici un grado di porosità su quella frontiera senza che vi sia una garanzia rispetto al fatto che non si dovessero più riproporre le condizioni per le quali 6 milioni di siriani se ne sono andati da casa dieci anni fa noi rischiamo di vedere un'escalation che verrebbe usata ai fini della guerra ibrida. Quindi questo è il primo punto diciamo emergenziale. Il secondo tema è che noi sappiamo voi sapete che tutto quello che sta accadendo in Sahel ha delle origini precise dal punto di vista della destabilizzazione e che attorno a questi fenomeni si giocano interessi anche molto concreti. Una cosa che si chiamava Brigata Wagner che oggi si chiama Africa Corps che organizza la destabilizzazione per consentire la tratta degli uomini correndo sul versante occidentale e sul versante centrale del Sahara e arrivando alla fine sulla battigia del Mediterraneo africano in una condizione nella quale questa multinazionale del terrore lucra sul dramma e sulla disperazione di molte persone. Ecco io credo che un'agenzia come la vostra oltre a svolgere questa funzione meritoria credo debba avere la piena consapevolezza di questi elementi e nel limite del possibile trasferire all'interno della struttura delle Nazioni Unite che ahimè è quanto ammaccata ma è l'unica cosa che ci separa rispetto ad un mondo che rischia di tornare alla dimensione degli scontri dell'Ottocento con la differenza che nell'Ottocento non c'era la bomba nucleare ecco è l'unica cosa che ci separa da quel baratro ma acquisire la consapevolezza la dico così che sul piano dei diritti sul piano dei valori sul piano del rispetto della persona non tutti sono uguali ci sono delle culture ci sono dei valori ci sono delle costituzioni da un lato e ci sono altri che utilizzano le persone come merce umana quindi in questo quadro un appello è anche una riflessione in proposito grazie grazie senatore Borghi senatore Barcaiolo grazie grazie presidente anch'io ovviamente inizio ringraziando l'alto commissario grandi per la presenza ma soprattutto per il lavoro che l'UNHCR compie quotidianamente io devo essere sincero condivido praticamente integralmente i due interventi fatti dai colleghi d'opposizione nel senso che su questa tematica è chiaro che onestamente rispetto soprattutto al vostro lavoro non vedo differenze di collocazione chiaro che alcuni degli aspetti sottolineati in modo particolare dal collega Borghi forse esulano anche dal ruolo che ha ovviamente l'UNHCR fanno parte insomma di scelte politiche geopolitiche e comunque di politica estera che trascendono quello che è il ruolo primario dell'organizzazione che oggi ospitiamo che ovvero la tutela appunto dei rifugiati in quanto talo a prescindere dalle motivazioni per cui appunto delle persone si ritrovano in quel determinato status dopodiché è chiaro che noi dobbiamo passatemi il termine non nobile usare anche organizzazioni come queste per cercare di mettere a sistema le scelte anche politiche e il riferimento che lei ha fatto ad esempio al tema dei centri in Albania in cui appunto la collaborazione vostra può essere di fondamentale importanza proprio per andare a discernere chi appunto merita lo status di rifugiato chi invece evidentemente si trova in un'altra situazione quindi con altro status perché è chiaro che la differenza appunto tra status di persone che si muovono nel mondo è quella che va a determinare quello che diceva prima il collega Borghi ovvero idem il collega del Rio i confini ci sono vanno difesi si superano a determinate condizioni e poi ci sono delle eccezioni appunto per coloro i quali ovviamente provengono da situazioni in cui diciamo in un bilanciamento di interessi la tutela della dignità della vita umana viene prima anche di quelle regole questo è il sistema entro cui ci muoviamo e credo che appunto organizzazioni come quella che lei rappresenta fanno benissimo questo compito dopodiché una domanda figlia però esclusivamente della mia ignoranza rispetto invece alla suddivisione quando diceva noi non siamo presenti a Gaza eccetera lei ha parlato di suddivisione e volevo capire un pochino meglio esattamente chi si occupa dei rifugiati qual è il motivo e qual è diciamo anche la fonte visto che comunque tutto ciò che diciamo discende dalle Nazioni Unite dovrebbe appunto occuparsi di tutto il globo terraqueo perché appunto ci sono delle eccezioni proprio da un punto di vista non dico giuridico ma insomma di scelte grazie grazie senatore Barcaiolo vicepresidente Sensi grazie presidente ringrazio il commissario la delegazione e mi scuso ancora con tutti voi anche con il personale del senato ovviamente con i colleghi per il mio colpevole ritardo volevo ringraziare molto il commissario grandi per intanto per la sottolineatura sulla situazione in Sudan che è gravemente sottovalutata dalla dalla politica italiana e gravemente sottovalutata quindi anche di riflesso in qualche modo dal dal dibattito pubblico e sono molto diciamo consapevoli di quello che lei ha detto e sono molto grato soprattutto per quello che lei ha detto degli spostamenti e dei flussi che dal Sudan stanno andando verso la Libia perché forse per una politica come quella nostra a comuno maggioranza e opposizione siamo come dire reagiamo soltanto ad alcuni campanelli piuttosto che non a una riflessione panoramica alla quale giustamente ci richiamava la ringrazio molto per la sottolineatura anche sull'Ucraina e anche per il wording della pace giusta c'è un calo di tensione evidente nell'attenzione su quello che sta avvenendo in Ucraina e spesso nel nostro dibattito politico e pubblico questo si vede ed sono molto contento che questa dimensione della giustizia sia affiancata alla pace che spesso nel nostro paese viene invece brandita come una sorta di arma o come un alibi le volevo chiedere una cosa però commissario sul tema dell'Albania le ha detto che la red line è quella dell'esternalizzazione del diritto di asilo mentre invece ha guardato positivamente guarda positivamente l'UNHCR al coinvolgimento dei paesi terzi diciamo Albania magari sarebbe stato diverso un po' il giudizio su Ruanda ovviamente la questione è questa la dico così mi scuso per la così mancanza di politesse UNHCR preferisce stare dentro piuttosto che stare fuori cioè preferisco essere coinvolto avere occhi poter vedere monitorare piuttosto che non limitarmi da fuori a dire questo non va o questo questa è l'impressione che ho avuto ovviamente questa posizione è una posizione che immagino che abbia fatto polemica anche nel vostro mondo le faccio due appunti una è la questione della legittimazione e cioè con questa sua decisione UNHCR legittima soluzioni non dico di esternalizzazione ma di coinvolgimento dei paesi terzi che restano controverse secondo appunto questa coinvolgimento attivo non rischia di moltiplicare in qualche come dire ho l'usbergo dell'UNHCR dunque altri paesi possono andare verso questa direzione ove mai questa direzione fosse legittima illegittima sbagliata positiva non entro in questo merito io personalmente per quel poco che cale penso che sia meglio stare dentro e quindi penso che la decisione dell'UNHCR sia una decisione giusta immagino che la questione sia però con quali poteri e con quali responsabilità altrimenti organizzazioni internazionali possono così autorevoli e così importanti possono essere utilizzate anche in un bargain cioè in una specie di così di legittimazione secondaria che non penso sia nell'interesse né delle persone che saranno accolte in questi centri né nell'interesse dell'autorevolezza dell'UNHCR e penso anche nell'interesse dei governi che qualora diciamo dissero chiedo scusa a questo tipo di trade off quindi la mia domanda diabolica è legittimazione uno moltiplicazione ci avete pensato immagino di sì e come risponde grazie grazie se non ci sono altri interventi io darei la parola al commissario Grandi per la replica grazie 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 a tutti comincio dalla questione del senatore Borghi che è molto importante senatore io siamo appena tornati da una missione in Estonia e Finlandia le posso assicurare che questo era l'unico punto di dibattito come lei può immaginare il confine è lungo e quindi hanno confini lunghi più dei nostri quindi molto molto importante io ricordo che forse la prima volta beh insomma questa è una questione che va avanti da molto tempo la strumentalizzazione dei flussi migratori per fare pressioni tra un paese e l'altro l'abbiamo visto già nel 2015 16 quando io ho cominciato in questo ruolo e Matteo Renzi era presidente del consiglio ne avevamo parlato molto già all'epoca il famoso accordo Unione Europea Turchia eccetera lei parlava di consapevolezza da quel punto di vista totale da parte nostra poi bisogna vedere che ruolo possiamo giocare perché la questione è essenzialmente politica quindi va risolta fra stati ma noi possiamo giocare un ruolo io ricordo che nel 2021 se non sbaglio lei forse ricorda che ci fu un episodio di questo tipo tra la come si dice la Bielorussia e la Polonia e la cancelliera Merkel chiamò noi e l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni per cioè lei guidò un'operazione di mediazione politica allora si parlava con Putin era con la Russia e ma ci chiese di intervenire per negoziare con la Bielorussia perché queste persone soprattutto quelli che in questa complicatissima situazione erano meritevoli di protezione internazionale perché ce n'erano fra queste persone fossero adeguatamente trate l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni si occupò del ritorno nei paesi di quelli che erano stati trasportati in Bielorussia questo per dire che siamo disposti in un quadro però di dialogo e di mediazione a svolgere il ruolo e sarà sempre un ruolo diciamo sarà sempre il nostro ruolo cioè noi diciamo molto chiaramente che strumentalizzare i flussi è una gravissima violazione dei diritti delle persone che vengono strumentalizzate a parte altre considerazioni politiche e però che bisogna fare attenzione che nel respingere questi tentativi non si penalizzino persone che invece hanno bisogno di protezione lo so è un po' complesso ma lei capisce che questo è il nostro mandato è un po' la questione del senatore del Rio cioè la tensione fra interessi e diritti che è sempre molto complessa però molto consapevoli consapevoli anche di quanto accade oggi nel Sahel e quindi molta attenzione da parte nostra verso questo fenomeno vorrei anche spendere due parole sulla Siria perché mi sembra importante allora ci sono sei milioni di siriani in Medio Oriente oggi cinque e mezzo tanti che sono ormai dal 2011 in questa zona oltretutto in alcuni paesi questo è diventato un fenomeno profughi rifugiati questo è diventato un fenomeno grave un fardello molto pesante soprattutto in Libano anche precedentemente a questo conflitto il Libano vive questa situazione molto male perché la vive anche dal punto di vista identitario dal punto di vista dell'equilibrio tra le confessioni sono una persona su quattro su cinque è un rifugiato quindi è seria la situazione d'altra parte la situazione siriana c'è stata un'evoluzione ma non una totale evoluzione nel senso che dal punto di vista della sicurezza con diverse zone perché c'è quella controllata dal governo quella controllata da alcuni gruppi diciamo più islamisti e quella controllata dai curdi è una situazione di pace armata diciamo non c'è non ci sono troppi episodi di insicurezza ma non c'è neanche un accordo che sistemi la situazione siriana il governo non ha fatto qualche passo ma è ancora lo stesso governo contro cui la popolazione si era ribellata qualche anno fa quindi cosa fare di tutti questi rifugiati perché c'è pressione perché tornino soprattutto in Libano ma anche sempre di più in Giordania anche in Turchia dipendendo dai momenti quindi noi abbiamo sempre detto abbiamo sempre sottolineato questo punto noi non promuoviamo il ritorno dei siriani in Siria non possiamo farlo in queste condizioni ma se ci sono persone che vogliono tornare e ce ne sono dobbiamo appoggiarli di più questo è il discorso che stiamo portando avanti con un certo numero di paesi compresa l'Italia perché perché la gente non torna in Siria molti forse la maggioranza non tornano perché hanno paura di una rappresaglia del regime molti non tornano molti una minoranza ma sempre molti perché su 5 milioni non tornano perché non ci sono scuole non ci sono case non c'è lavoro ci sono le sanzioni quindi a un certo punto considerando che è improbabile che la situazione politica evolva molto rapidamente cosa facciamo di questa enorme popolazione per cui l'integrazione nei paesi vicini è sostanzialmente impossibile e dal punto di vista socio-economico e dal punto di vista politico quindi io credo che dobbiamo lavorare su due fronti uno lavorare e questo è il nostro compito con il governo siriano perché le minacce alla sicurezza dei rimpatriati siano tolte o i rischi che non siano messi in prigione che se hanno delle case o terra restituzione delle proprietà che è sempre un grosso tema legale diciamo documentazione eccetera su tutto questo qualche progresso è stato fatto tengo a dirlo è importante dirlo e però bisogna anche che la comunità internazionale soprattutto i paesi donatori facciano di più per creare le condizioni ora ci sono sanzioni e limiti a quello che si può fare ma il consiglio di sicurezza in una sua risoluzione ha stipulato che quello che si chiama immediata come in inglese il termine tecnico è early recovery quindi non so come accoglienza o non è ricostruzione perché questo sarebbe oltre le sanzioni ma insomma interventi all'inizio di quando le persone tornano questo è autorizzato al consiglio di sicurezza invitiamo tutti a fare di più per questo ho salutato la riapertura dell'ambasciato perché penso che sia importante questo dialogo non facile ma è oggi che la Siria accoglie paradossalmente centomila persone fra cui alcuni siriani lei parla di porosità forse ma io lo vedo anche da un altro punto di vista che forse è un passo verso una direzione più positiva nella gestione concludo e mi scuso di essere un po' di essermi dilungato ma è un tema che mi sta molto a cuore perché il contrario cioè non far niente l'inazione su questo fenomeno siriano senz'altro è quello che dirigerà i movimenti in un'altra direzione e come lei dice bene poi si innesca nell'altro meccanismo le pressioni non solo le pressioni ma anche i traffici ieri l'ambasciatore turco a Ginevra non rivelo segreti mi ha chiamato per dirmi che erano preoccupati perché già vedono persone arrivare alla frontiera turca era inevitabile immaginarlo sono piccolissimi numeri però nessuno si stupisca se questo accade quindi capisce il mio punto di vista complesso perché vuol dire trattare con un governo le cui pratiche insomma restano qualche preoccupazione quindi però con cui abbiamo un dialogo noi dialoghiamo con tutti quindi abbiamo un dialogo anche con loro volevo poi dire che sul punto importantissimo del senatore del Rio sull'equilibrio o meglio sul lei il senatore ha parlato della prevalenza del diritto internazionale sugli interessi nazionali certo dove la legge lo prevede direi però che il compito direi in più che il compito della nostra organizzazione è di cercare di trovare una via che riconcigli le due parti lei sa che il mio mandato come alto commissario è la protezione internazionale dei rifugiati ma è anche l'altra metà del mandato meno conosciuta lavorare con gli stati per cercare soluzioni a questi problemi io credo che nella ricerca delle soluzioni dobbiamo sempre capire le esigenze degli stati che a volte potrebbero essere in tensione col diritto e cercare di interpretare e applicare il diritto in modo appropriato e questo mi porta alla questione del vicepresidente sulla 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 questione albanese io direi due cose su quello uno tengo a ripetere quello che ho detto prima noi abbiamo prima di tutto lei ha menzionato il Rwanda questo era la proposta o il progetto fatto dal precedente governo britannico su un'esternalizzazione di tutto il sistema o una parte almeno del sistema d'asilo britannico sistema peraltro esistente sulla base di una convinzione di cui loro fanno parte e il sistema la proposta era di trasferire questo sistema a un paese terzo completamente la determinazione del di chi è rifugiato o no sarebbe stata fatta se fosse andato avanti dal Rwanda non dal Regno Unito dal Rwanda in Rwanda con nessuna possibilità anche per chi fosse stato riconosciuto come rifugiato di tornare nel Regno Unito quindi voi capite che questo per noi non è neanche una linea rossa è assolutamente inaccettabile e abbiamo rifiutato ogni tipo di appoggio o collaborazione adesso quella proposta non è mai stata realizzata il nuovo governo britannico l'ha eliminata e stiamo però lavorando con loro su come poter affrontare perché anche loro hanno un problema considerevole di flussi attraverso la manica ma questo è un altro discorso sull'Albania invece le premesse ci sono forse per una messa in atto di questo accordo che sia ai sensi del diritto internazionale perché sarà fatto dall'Italia questa determinazione con se io capisco bene i termini dell'accordo con la possibilità per chi è riconosciuto come rifugiato di poi di essere accolto in Italia solo viene fatta al di fuori del territorio italiano questa è la novità diciamo su cui noi esprimiamo interesse non possiamo ancora dirvi se se lo se lo se se per noi è completamente legale o meno dobbiamo vedere come sarà messo in atto e per questo abbiamo accettato un ruolo di monitoraggio non è un ruolo di determinazione è un ruolo solamente di monitoraggio nel senso che noi secondo procedure che stiamo ancora discutendo col governo e questo è molto importante lei l'ha parlato è chiaro che il nostro ruolo deve essere definito noi diremo questo è conforme o non conforme al diritto internazionale ci sembra importante appunto essere dentro ma essere dentro in quel ruolo segnalo e ripeto che è un ruolo previsto dalla convenzione anzi richiesto dalla convenzione la convenzione dice esplicitamente che l'UNKCR ha il ruolo di sorveglianza della messa in atto della convenzione sui rifugiati penso che supervisione anzi questo è il termine tecnico supervisione e quindi penso che siamo strettamente parlando nel nostro ruolo istituzionale più tradizionale e lo metteremo in atto stiamo discutendo le modalità di come farlo che sono fondamentali e la unica cosa che posso dirvi in questo momento che vi posso garantire che sarà trasparenza assoluta dal nostro punto di vista cioè diremo in modo trasparente e pubblico e che il governo lo diremo anche al governo cosa qual è la nostra valutazione per ora abbiamo un accordo su tre mesi soltanto in via preliminare però mi sembra importante interessante per ritornare al punto del senatore del Rio i diritti sono ben chiari e stabiliti dalle convenzioni dagli vari strumenti giuridici poi la loro interpretazione naturalmente deve essere sempre adattata questo è il nostro lavoro e c'è interesse da parte nostra per vedere se questo esperimento può risultare in qualcosa che poi alla fine deve essere vantaggioso per tutti perché se non lo è è inutile farlo poi ci sono altre determinazioni costi eccetera ma questo non è il nostro problema questo è il vostro problema non il nostro quindi dovremo poi ne discuteremo è una questione è una questione aperta credo l'ultimo punto che volevo sì no due punti ancora uno sulla sulla divisione del lavoro forse l'essentro che mi ha chiesto sì sì mi scusi la divisione del lavoro fra l'un dunque l'unroa è un'organizzazione delle Nazioni Unite stabilita prima dell'UNHCR un anno prima dell'UNHCR quando l'UNHCR è stato stabilito nel 1950 50 sì 50 l'unroa esisteva già da un anno perché era il risultato della guerra del 48 eccetera dunque l'unroa ha la sua storia e il suo mandato sancito da risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU quando l'UNHCR è stato fondato e ha cominciato il suo lavoro molto chiaramente è stabilito anche nella Convenzione che le sue responsabilità erano globali eccetto le zone di responsabilità dell'unroa questo determina la divisione del lavoro poi l'unroa ha sviluppato lei sa che io sono stato anche commissario dell'unroa l'unroa ha sviluppato una sua modalità ha sviluppato su richiesta degli stati sue modalità di intervento che sono molto diverse dalle nostre perché l'unroa è un servizio semi pubblico o para pubblico che fornisce servizi di istruzione di salute di sanità ai rifugiati palestinesi quindi non tutti i palestinesi e l'UNHCR non si occupa quindi non ha un ruolo in quel particolare contesto per cambiare questa situazione perché molte volte perché due agenzie perché l'UNHCR non prendere prima di tutto penso che se anche fosse possibile faremmo dovremmo far fronte agli stessi problemi a cui fa fronte l'unroa in questo momento che conoscete bene però in ogni caso questo non dipende da noi né dipende da singoli stati né da Israele né dai stati ci vuole una risoluzione dell'ONU che cambi quindi su questo io oltre questo non posso esprimermi e vorrei soltanto concludere dicendo che per tornare ancora all'intervento del senatore del Rio io credo che certo è gravissimo quello che sta succedendo non è soltanto una questione dell'autorevolezza dell'alto commissariato se posso permettermi senza sembrare pretenzioso penso che nel sistema dell'ONU i mandati forti come il nostro perché è ancora un mandato forte non sono certo sempre rispettati anzi purtroppo spesso non lo sono però conservano una certa autorevolezza io le posso dire che anche trattando con governi molto complicati si sente che c'è sempre una preoccupazione di dire non violiamo le regole anche se le violano non so se mi spiego quindi questo è un segno che c'è ancora un un margine di rispetto ma osserviamo con grande preoccupazione l'erosione di tutto il resto avete visto che ieri il segretario generale è stato dichiarato in modo un po' bizzarro persona non grata in Israele queste sono mi spiace dirlo sono erosioni del multilaterale che sono molto molto gravi e che spero riceveranno tutta la vostra attenzione e spero che il governo e le istituzioni italiane continueranno al contrario a sostenere il ruolo che mi sembra fondamentale oggi nelle sfide dove dobbiamo far fronti cambiamenti climatici i conflitti le questioni migratorie se non si lavora insieme e se non si ha un multilaterale forte non potremo vincere queste sfide grazie anche se bisognerà interrogarsi di una governa ma è spostibile nel sistema ONU perché a oggi è la paralisi vicepresidente Formentina ha chiesto la parola sì grazie presidente ma io mi volevo ricollegare alle ultime parole dell'alto commissario perché io mi interrogherei noi ci autocondanniamo sempre come occidente ma mi interrogherei piuttosto invece sulla sfida che pone la Cina all'esistenza dell'ONU e sulla riscrittura di queste regole internazionali che hanno regolato fino ad oggi valori diritti umani il mondo o si è cercato almeno di far valere questi valori e diritti umani in particolare anche con riferimento appunto al caso di Gutierrez io direi che però l'ONU deve fare un profondo esame perché quello che è successo sull'URVA è molto molto grave drammatico il coinvolgimento di un'agenzia ONU in atti terroristici penso che sia qualcosa di mai visto ecco però a parte questo io le chiedo come salvare le istituzioni internazionali di fronte alla sfida di chi le vuole cancellare o piegare ai propri desiderati grazie prego dottor Grandi questa è una domanda molto difficile forse la chiederei a voi di rispondervi ma un primo piccolo punto di precisione non spetta certo a me parlare dell'UNU solo per sottolineare per precisare piuttosto che sono state istituite due commissioni di investigazione sui fatti a cui lei si riferisce una delle quali gestita dall'ex ministra degli esteri francese Catrin Colonna non ha constatato coinvolgimenti in atti di terrorismo anche se ha constatato lacune nel sistema di controllo che io so l'UNU sta gestendo c'è un'altra commissione di investigazione che sta continuando a investigare fatti più specifici quindi le Nazioni Unite hanno risposto a quelle accuse che prove delle quali peraltro non sono mai state condivise con l'UNU le parlo con cognizione di causa perché queste non sono accuse nuovissime quando ero stesso sono passati molti anni ma quando ero commissario dell'UNU il nostro dialogo soprattutto lo Stato di Israele era molto intenso e costruttivo su questi punti perché ogni volta che c'era una segnalazione di un possibile abuso o anche politicizzazione noi investigavamo e abbiamo anche preso misura disciplinare abbastanza forte in alcuni casi in altri no ma in trasparenza in dialogo con lo Stato Israele e penso che questo sia l'unico modo per avanzare e per continuare sull'altro punto cosa devo dirle è chiaro che le istituzioni internazionali sono molto importanti è chiaro anche mi permetto di dirle onorevole che purtroppo il sistema internazionale è sempre stato usato dagli Stati lei ha usato la parola usato dicendo mi scuso il termine questa è la realtà il sistema è fatto anche per essere usato deve essere usato però per diciamo nei limiti della solita tensione fra interessi nazionali e diritto o interessi internazionali noi svolgiamo quel ruolo di equilibrio poi bisogna che gli stati vogliano e accettino che noi svolgiamo questo ruolo come io parlo per la mia organizzazione finora riusciamo a farlo con grandi difficoltà e con grandi rischi e con grandi minacce però continuiamo a farlo io posso soltanto invitarvi a essere fra i paesi che difendono questo sistema piuttosto che essere fra i paesi che invece lo indeboliscono o vogliono eliminarlo grazie se non ci sono altre domande io dichiarerei terminata la nostra audizione è stata una grande occasione di cui la ringrazio alto commissario rinnovo i miei sentimenti di stima di amicizia che non sono non risalgono oggi riconoscenza per quello che fa e come lo fa mettendo in campo le categorie della politica ovvero utilizzando il dialogo la diplomazia ma anche come dire un certo pragmatismo per ottenere gli obiettivi e risultati ed è un lavoro preziosissimo per l'intera comunità internazionale sappia che credo di parlare anche a nome dei nostri colleghi che il nostro appoggio in queste commissioni ci sarà grazie buona giornata grazie 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 grazie